La disponibilità che viene sempre tanto emillantata dai docenti è solamente una disponibilità formale che di fatto nella sostanza non esiste, perché non è stato venuto incontro a nessuna delle nostre richieste, fino ad oggi. E' stato un appello del Consiglio degli studenti affinché i docenti venissero incontro all'esigenza di tanti studenti che avevano difficoltà in questo periodo di maltempo e non è stata mandata alcuna risposta in alcun modo, non c'è stata alcuna risposta, anzi siamo pure stati presi in giro perché noi abbiamo inviato un documento segnalando gli esami che erano posti in date, che non permettevano a tutti di sostenersi e non stiamo parlando di 50 esami, stiamo parlando di un elenco di tre esami, su tre esami non è stato spostato neanche uno, non siamo stati presi in considerazione in alcun modo e il preside della facoltà sicuramente ha delle responsabilità.